Ciao ragazzi, buongiorno. Sapete già che abbiamo riaperto i viaggi di gruppo e per questo in questo video che ora ti faccio vedere ti voglio mostrare le prossime date per i nostri viaggi di gruppo sia per la Moldava che per Romania per i prossimi tre mesi. Abbiamo cercato di organizzare, di facilitare le vostre ricerche, di mettere tutte le date disponibili fino al mese di luglio così per potervi organizzare il prima possibile perché sappiamo bene che con l'arrivo d'estate sono tutti che vogliono venire a casa, i prezzi dei biletti aumentano e poi prima prenoti meglio per te perché ti puoi assicurare un posto in clinica perché sappiamo che siamo quasi sempre in full booking e quindi meglio prenotare prima il viaggio per le vostre cure. Allora scrollando in giù potete vedere già i viaggi di gruppo per la Moldavia, abbiamo cercato di mettere tutti gli aeroporti che hanno il volo diretto per Chisino e ovviamente come detto prima troverete le date per i prossimi tre mesi ovvero fino al mese di luglio. Avete già anche qualche data per il mese d'aprile però siamo già in full booking quindi potete già iniziare per Chisino e Brasov, potete ancora prenotare per il mese di maggio invece per Bucharest siamo in full booking e per questo che è meglio organizzare prima il vostro viaggio e assicurarvi un posto nelle nostre cliniche. Allora praticamente andando giù vedrete tutti gli aeroporti che hanno il volo diretto per Chisino, tutte le date disponibili sia da Milano a Bergamo, da Roma a Fiumicino poi c'è Ciampino, Bologna, sempre come ho detto fino al mese di luglio ad esempio qui vediamo Bologna il 30 luglio sempre da Venezia, da Parma, da Verona allora tutti gli aeroporti che hanno il volo diretto per Chisino non saranno ovviamente qui solo gli aeroporti dell'Italia abbiamo anche altri aeroporti dell'Europa qui dalla Germania, Londra ovvero Inghilterra Varsovia, Vienna, Francoforte, Bruxelles, Dublin, sempre dalla Germania qui Memingen e ovviamente come ho detto anche viaggi di gruppo per Romania, Bucharest e Brasov sempre col volo diretto scrollando in giù sempre tutte le date disponibili dagli aeroporti diciamo quelli più grandi d'Italia qui abbiamo Milano-Bergamo sempre fino al mese di luglio avete tutte le date sia per la Romania e anche scrollando in giù troverete anche qualche aeroporto fuori Italia come qui ad esempio Francoforte, Monaco e Dublin e poi pian piano diciamo noi ne aggiungiamo stiamo aggiornando questa pagina ogni giorno quindi ogni giorno troverete qualche tratta nuova magari qualche data nuova una volta che vi siete decisi con la data che volete scegliere basta cliccare qui appricciate viaggi di gruppo e vi collegate in modo automatico a me e alla mia collega Iana che noi saremo lì disposti a rispondervi ad ogni vostra domanda ad ogni vostro dubbio e cercheremo di aiutarvi di avere un volo più sicuro più diciamo leggero e di farvi volare in compagnia sapete bene che da tanto che organizziamo i viaggi di gruppo loro hanno proprio come scopo di far passare questo viaggio ai pazienti meno stressante di stare in compagnia e magari di cercare di direzionarvi sui voli quelli più sicuri che non vengono annullati oppure per darvi anche le più migliori offerte di volo quindi ragazzi fate fretta non dovete lasciare appunto per questo che facciamo questa cosa con tre mesi in anticipo per assicurarvi un posto nella nostra clinica basta semplicemente da voi scegliere la data cliccare su appricciate viaggi di gruppo dire la data che avete scelto e poi noi vi aiutiamo in tutto e vi prenotiamo anche un posto nelle una delle nostre cliniche io vi saluto e aspetto i vostri messaggi ciao